Buon pomeriggio a tutti, Carlo benvenuto, grazie, in arte Car Brave, questa è Est & Guest, è una delle ultime interviste di questa stagione e siamo molto 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 contenti di averti qua perché ci hai accompagnato comunque in un discreto periodo della nostra... Ah per quanto mi riguarda dai 16 anni ad adesso, è un altro di quei momenti di quest'anno in cui siamo faccia a faccia con la nostra adolescenza, percorso di crescita, adolescenza, i nostri momenti più belli, la maturità, il viaggio di maturità, la prima volta, l'università e siamo un po' tornati comunque in quell'aura perché ascoltando il disco comunque mi sono ritrovato Siamo fatti un bel viaggio Sì, con certe sonorità che insomma chiaramente ho riconosciuto che sono le tue ma sicuramente che è un viaggio in qualcosa comunque che abbiamo percepito anche nel tuo inizio, se si può dire, inizio carriera Partendo dal nome del disco Esatto, io volevo partire proprio da... volevamo partire un po' dal titolo insomma che è un titolo che ti fa venire in mente subito questa idea del viaggio, dell'allontanarsi da qualcosa per poi ricercare qualcosa di diverso, di nuovo in cui ti sentivi o ti senti più comfort La prima domanda era proprio su questo Da cosa sei partito per la stesura di questo progetto e se c'era qualcosa da cui ti volevi allontanare e cosa cercavi insomma con questo disco nuovo? A disco nuovo cercavo di fare... Diciamo la parola... Migrazione Bellissimo Innanzitutto è vero che hai sentito dei profumi un po' passati perché ho cercato di partire da là appunto, di partire da là e migrare verso un po' nuove sonorità quindi partivo da Roma a questo disco, ho migrato, sono andato a Tokyo, Marrakesh, Lisbona, Madrid ho lavorato un po' là, mi sono accettato degli studi di registrazione Insomma ho lavorato insieme a musicisti di là, musicisti miei sfruttando anche sonorità dei posti, dei luoghi, tipo lo Shamisen a Tokyo Che è tipo il goal secondo me di chi fa il tuo lavoro? Beh sicuramente è un modo per cambiare il proprio sound ecco, però sempre partendo un po' da quelle sonorità che hai detto te quindi dalla roba mia, da Roma, da Trastevere infatti il disco apre con biscotti non a caso perché biscotti è un pezzo molto Notti Brave, Polaroid Romano proprio anche nell'anima questo spirito di ricerca che ti ha portato un po' in giro per tutto il mondo deriva anche da una sorta di noia che ti ha procurato Roma cito, mi viene in mente proprio il pezzo stesso, Roma è sempre la stessa cioè hai notato che ciò che ti ha sempre ispirato e che continua sicuramente a ispirarti quasi in una totalità, però non ti dava più quel qualcosa, quel quid che poi ti accendeva magari il processo creativo per le canzoni quindi lo sei andato a cercare altrove? allora sì, guarda, sicuramente ma è stata una cosa pure un po' cioè Roma rimane sempre la mia fonte di ispirazione più grande però a una certa, dici, ho la possibilità perché non fare viaggi cercare nuove ispirazioni anche quello che non c'è a Roma per cercare nuovi mood oltre che diciamo di strumentari pure di vita, no? per raccontare cose anche un attimo diverse diverse, chiaro in tutto questo itinerario qual è stato un po' il posto che ti ha folgurato di più? qualche aneddoto da Lisbona o da Giappone? insomma come sono differenziate queste migrazioni? sono stati molti, molto differenti diciamo, quello che mi ha colpito di più è il Giappone, chiaramente Tokyo eri già stato? no prima volta, 20 giorni, sono stato solo a Tokyo ma cambiavo tre case in tre quartiere differenti, diciamo e là è proprio un mondo a parte assurdo, alieno in cui proprio loro sono mega diversi è una cultura eri il più alto di tutti, sicuramente beh, ero bello alto sicuramente poi ci stanno altri turisti qualcuno mi ha fatto la foto è una cosa che ti capisce e poi vabbè Marrakesh pure perché è un luogo un po' particolare di perdizione è un po' Roma ad agosto Marrakesh secondo me come vibe del caldo tutti spacciatori sono spacciatori mi dà un po' quella vibe lì sì, mi dà un po' quella vibe lì certi non so per quello che posso immaginare in Marrakesh non essendoci mai mai stato bacce vorrei andare a soffare abbastanza diversa da Roma ma io manco a Tokyo so che Tokyo è proprio un posto assurdo cioè è un'altra roba un altro pianeta ma hanno raccontato che ci sono i box per i fumatori in giro per la strada sì ma c'è è tutto assurdo tutto ci stanno cose veramente palazzi pieni dei dei videogiochi tutti i piani tutta gente è una roba incredibile e tu hai mai avuto un po' il culto di quella cultura quindi sei arrivato pronto e hai detto minchia devo andare subito lì a vedere quella cosa a vedere se è come l'ha raccontato amico mio che è stato cioè avevi un po' beh io diciamo sono sempre stato in fissa con i manga da quando sono un ragazzino quindi diciamo un po' da là ho traslato sti manga al vero al vero manga al vero alla vero Tokyo insomma e andando iniziando un po' il track by track volevo partire dalla traccia 10 si chiama appunto 10 che racconti una cosa di una classica situazione di quando stai a mangiare in una trattoria romana che passa il tipo la tipa che ti lascia l'oggetto che tu definisci lurido che è proprio fai anche verbalmente mi sono ritrovato perfettamente e quindi è una delle top tre parole che usi sempre esatto ha girato mille tauri ha girato mille ristoranti capito è sempre quello è sempre quello e tu ti sei mai dato un po' una spiegazione a quella situazione beh no ho sempre pensato di finti muti ho sempre pensato fosse un truffone fosse una truffa poi poi magari invece è tutto vero sono una merda io però penso sia una truffa ed è una cosa comunque anche molto molto romana perché beh sì qua a Milano ci sono tipo sicuramente le rose c'è la stessa dinamica più con le rose e però quella lì è una cosa secondo me un po' molto un po' molto di può essere io diciamo che era un po' che non la vedevo l'ho scritta perché l'ho scritta poi più o meno recentemente la seconda strofa dei dieci l'ho scritta dopo tipo due anni dopo che avevo scritto Ritornello e prima strofa perché pure quella situazione di quella roba là degli oggetti del bigliettino e bla bla pure da Roma è un po' sparita cioè ma è risuccesso ma è ricapitato ad Anzio che è un posto di mare vicino a Roma e quindi è una epifania fermi tutti è stata grande allora l'ho scritto ma il ricordo quello è proprio un ricordo di quando sei piccolo da ragazzino succedeva sempre c'erano sempre questi poi non so perché nessuno non ho mai visto nessuno dagli una lira non so come campano beh quella roba lì secondo me magari ti fregano il portafoglio da dietro no secondo me gioca molto su chi magari ha un tipo di spiritualità più in quella direzione che magari appunto non so se dire superstizioso che cosa però colpisce quel tipo di persone e ci stanno pensa l'altro giorno stavo con loro stavamo a Campo dei Fiori è arrivato un tipo delle rose no però uno mezzo strano non il solito insomma non il solito simpatico uno strano diciamo ma non so che parole usare non posso stare dentro un personaggio un po' ambiguo personaggio molto ambiguo scusate questo è sicuramente il mio che vivo di sveglia ecco training c'era scritto te devi allenare così stavo vabbè fatto stare questo qua ci fa allora ragazzi avete i soldi non sappiamo niente che ormai c'è pure la cosa c'è solo la carta e devi far posto che c'è non ce l'hai esatto ragazzi grazie ma voi siete diversi vi auguro ogni bene vi auguro per la vita adesso per il prossimo anno sarà il vostro anno migliore tutti così pozzietti se è andato uno di noi ha fatto vado a tagli i soldi vado a tagli i soldi ha detto oh cazzo mi sono grattato mesce il disco domani capito e quello ha detto vabbè c'è ragione vado a tagli i soldi è andato la rincorsa gli ha dato i soldi nel senso per dire effettivamente ci stanno queste persone siamo noi esatto era una sorta di apparizione e a Trastevere c'è uno di questi men che è sempre lo stesso immagino di sì e se che cosa cioè per esempio qua sempre parlando di Milano perché purtroppo io sono milanese purtroppo non ci posso fare niente avete sto c'è un man che appunto canta questa famosa canzone di Massimo Ranieri appunto che è a tema rose e però è sempre cioè è diventato un'icona credo che anche Skinny ci abbia fatto qualcosa su una sua canzone c'è qualcosa l'interlugio a Roma ce ne stanno mille di questi personaggi comunque a partire da quello che ci fece la copertina di Polaroid Ali ah beh certo in teoria in pratica ci stanno due di Ali perché noi abbiamo sempre fatto fare le foto a questo al primo Ali 1 poi Ali 1 tornò in Bangladesh quando dovevamo fare la copertina del disco quindi sfigatissimo quindi ci fu quest'altro tipo quest'altro Ali sempre il cugino di Ali poteva essere il Tommaso Biagetti della scena e l'altro giorno l'ho ribeccato perché ho fatto questa cosa a Piazza di Lussa insomma ormai lui è famoso perché tutti gli chiedono le foto lui non dà le rose fa le foto fa le Polaroid appunto insomma mi diceva facciamo video alimentare andiamo oltre comunque noi abbiamo uno un king un po' che non lo vedo comunque il king il più king di tutti è il mago guarda a Roma il mago guarda è un mago e ci stanno altri tipo 30 ma chi guarda fake non leggi sì perché c'è uno solo gli pagano il pizzo pagano il pizzo a lui e gli cinghia magari è un franchising un franchising un franchising che te mai chi guarda capito è scomparso secondo me dà fastidio a qualcuno di potente e che giochi faceva lui? e lui faceva faceva scomparire le cose dal cappello il cilindro le solite cose cazzate che si fanno con la columba che ne so magari vendeva pure i pezzi ma questo non lo sappiamo questo non lo sappiamo io l'ultimo personaggio un po' tipico che ho visto di recente sui social è Er Pantera certo Er Pantera ce la facciamo una foto io è l'ultimo posto mi sono notato col Pantera tu pensi che il Pantera adesso è diventato famoso perché l'hanno pure arrestato ho visto per TikTok l'hai visto per tutta quella storia ma il Pantera era scomparso per anni io quando ero piscallo io il Pantera c'è stava era fisso a trasteremo è riapparso e il Pantera che e non so datemi un contesto no il Pantera è un matto diciamo di quartiere vestito tipo Mick Jagger come se Mick Jagger avesse reso ancora più difficile il suo modo di vivere quindi c'ha tutte queste cose attillate comunque parzialmente nudo è uno bello sì sì è uno bello che vuole bello apparire ma è completamente pazzo assolutamente completamente che lo becchi che dorme in giro lui stava con una ai tempi mi ricordo che poi morì poraccia cavolo insomma poi è sparito per anni ed è ricomparso secondo me può essere andato al gabbio non so che cazzo e ora è ricomparso è diventato una stella di TikTok esatto ma tu non hai idea il giorno che l'hanno arrestato c'è questo video lo guardiamo dopo l'intervista in cui ci staranno tipo 200 ragazzi intorno a lui che comunque stanno lì in zona chiacchiano bevono birre eccetera lui fa il suo show arrivano i carabinieri e si cassa tutto questo cerchio gigantesco con lui in mezzo che li guarda proprio sfidandoli e gli tira una pallonata c'ha sto pallone in mano boom rilancio pallonata ai poliziotti e poi chiaramente viene preso ma qual è la cosa che adesso con i social che è differente da quando noi eravamo pischelli che poi erano 10 anni fa c'è manco però che adesso tutti stimati queste cose e vengono esposti e prima invece non era così è una roba più vostra cioè effettivamente è una roba più tua ma questo è pure chiaramente un contro cioè che poraccio il pantero ok fa ridere lo vedi ha tirato la pallonata ok però comunque quella è una persona che sta di merda c'è gli sbatti no c'è gli sbatti e poi poi è arrivato cioè capito sta affruttendo cioè non ci sta lo volevo dire non ci sta con la testa e quindi questa cosa dei video si è divertente tutto quello che vuoi però stai un po' sfruttando spettacolarizzando la sofferenza da una persona assolutamente quello non ci sta questo è il lato insomma brutto di tutto quanto insomma allora facendo un passo indietro e poi quando c'è la domanda tu vado un attimo a controllare anche Twitch se c'è qualcosa per da user io sono già contentissimo che abbiamo tirato fuori il pantera e il mago cioè per me eh vabbè questo è un po' il culto del culto abbiamo parlato insomma bravi io volevo parlare un po' di maturità perché ricollegandomi anche al discorso che facevate prima all'inizio di questo disco che scorre in una maniera secondo me anche un po' diversa con delle sonorità che rimandano ai primi lavori però con un'intimità diversa insomma perlomeno a me ha dato questa impressione soprattutto all'inizio del disco i primi tre o quattro pezzi c'è un'atmosfera un po' cioè per quanto riguarda inedita che mi ha catturato in maniera un po' più più profonda io volevo chiederti a che punto della tua carriera arriva questo disco e con che consapevolezza l'hai confezionato allora la consapevolezza è molto de panza l'ho confezionato cioè io sono uno che fa tanto sempre e diciamo un disco che non segue troppo le logiche di mercato no quindi come hai detto te è un disco intimo un po' riflessivo alle porte dell'estate inizia non con i banger ma inizia comunque meno strombettante l'ho percepito io meno strombettante bravissimo quella scelta pure diciamo di strumentali produttiva perché sennò da ammetti aspetti sempre comunque la trombetta che ci sta da giocherellona un po' così scansonata però poi insomma diventi banale magari però no è un disco di 19 tracce quindi è un disco ho fatto una cazzata ho fatto una cazzata no no sono contento sonoci due meno uno sono contento due che con solo i testini alla grande stavano invece sono contento perché ho fatto quello che volevo fare capito senza troppo pensare a quello che va a quello che non va a quello che non va ho seguito un po' il mio mood di questo periodo di questi anni capito e anche insomma le collaborazioni sono per dire in italiano sono diciamo featuring sono comunque a me hanno sorpreso perché si vede che sono per esempio Clementino mi ha fatto sentire un po' quando ascoltavo Clementino cioè è come se avessi chiesto un po' quella roba lì cioè io ho sentito un po' Clementino spacca vetrine quella roba lì di quel periodo infatti mi ha casato infatti spacca greve quella strafacazza Clementino sì assolutamente ho cercato di fare comunque featuring anche diversi dai soliti adesso c'è un po' la cosa di fare sempre gli stessi no c'è un po' un giro invece secondo me è figo fare un po' a seconda del disco che il tipo di disco che fai di fare roba con con tutti insomma e poi complimenti perché nel tuo disco non c'è gue quindi gue ha dichiarato che sarebbe stato nel disco di tutti invece quindi mettiamo che non vi piace più gue mi piace più rapparo sigla dico così adesso l'altro c'è Jake c'è infatti cazzo c'è anche lui che entra molto da Jake sulla strofa tra l'altro con un nome di traccia che è anche molto culto per vuol dire che ancora non ti stai a allenare perché al primo hai detto non c'ho voglia adesso la seconda è di andare a tirare su quei pesi mi sa che sto continuando a posticiparla la sveglia training è esattamente come la sveglia della giornata ne metti tre perché comunque le prime due le schifo no io ne metto tre io vivo di sveglia è un incubo e appunto di Jake la traccia è odio e quindi anche questo è un po' poi chiaramente dipende dal pubblico che ti ascolta però per chi come me ha visto un film e mezzo uno di questi è l'odio insomma è una bella citazione poi anche molto classico come modo di stare sul beat e produzioni tante o tutte comunque tue tutte com'è mettersi e fare entrambe le cose rispetto appunto a immaginarsi un disco appunto lavorando con un produttore perché comunque te la canti te la suoni sì esatto da sempre poi alla fine esatto da sempre perché comunque il tuo background nasce come producer beh io cerco questa cosa per me penso sia più facile c'è un senso io voglio farla perché è tutta una roba mia è uno stile mio capito rimane una cosa tua senza nulla togliere magari un giorno fare un disco con i produttori poi io ho fatto un sacco di cose con gli altri però solitamente le faccio nel fit con le produzioni però di base voglio che i dischi miei abbiano il mio stile e questo per avere il mio stile lo devi fare a te ok e quindi anche immagino il tuo modo di approcciarti al lavoro è sicuramente molto diverso da appunto da chi fa o l'uno o l'altro perché magari mi immagino che a volte parti da una produzione altre volte invece parti da una melodia ci attacca qualcosa e quindi il viaggio ti ha aiutato più a lavorare nella scrittura oppure appunto nelle produzioni allora il viaggio mi ha aiutato a lavorare tanto nel nel suono di in merito a colori nuovi a mettere colori nuovi mettere strumenti nuovi a cambiare un po' di sound ma il viaggio ti aiuta pure molto di ispirazione poi io lavoro molto e faccio delle sessioni belle lunghe boom 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 ore e ore in cui magari produci tanto poi a un certo punto sei stanco non gliela fai più e quindi mi metto a scrivere mi metto a scrivere un po' quindi mi riposo ti ricarichi e poi mi rimetto a fare la cosa è tutto così è una macchina perfetta è un meccanismo perfettamente infatti per questo io faccio un sacco di pezzi io ho in saccoccia un botto di roba che non è uscita perché e questo è diciamo il plus la produzione stanca e la scrittura rilassa beh la produzione stanca di più perché stai al computer stai sull'occhio stai comunque curvo ti fa male la cervicale ingoblinito sulla sedia capito stai bello è bello faticoso invece la scrittura ti metti in lupo ti sbrachi sul divano bella è bello io volevo pescare un pezzo Eri ha pescato la collaborazione con Clementino e Gek io volevo pescare quella con Darjan quindi Turbolense e avevo due domande un po' come nasce la collaborazione con Darjan e anche come guida un rettiliano perché tu dici che questo è un rettiliano che guida una Subaru male chiaramente molto male cerchi di acciaccare la gente no allora con Darjan l'ho beccato sono andato al suo concerto a Ciampino a a locale non mi ricordo come si a Lorion a Lorion insomma li siamo conosciuti gli ho scritto Tembocco al concerto dopo becchiamoci quando finisci siamo beccati siamo bevuti una una vodkina insieme gli ho fatto sentire il pezzo volevo una poi io sono un fan ovviamente manco senza manco lo dico qua sto fan di tutti questi Clementino sono fan da sempre e volevo per questo pezzo che è un po' pazzerello un un'anima un po' eclettica ma anche ritmicamente proprio bello esatto beh diciamo secondo me Turbolenza è la traccia più strana del disco sperimentale sperimentale sì perché poi pure la struttura non ha un vero ritornello il ritornello è se io non sarò presente è per questo il Turbolenza che non è manco un ritornello sì 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 sembra una strofa che cazzo ne so che ripetiamo 200 volte e quindi serviva uno pazzerello esatto come dal perché tu non sei nei miei trip sugli alieni rettiliani tutte queste cose però prima ho sentito sta roba chissà ma qua siamo mega in trip sugli alieni pensai solo ieri mi ha mandato una cosa quindi seguite Omega Click no eh no raga se no se siete fan veri Omega Click bisogna seguirlo ma top secondo me in Italia è il numero uno ma roba di alieni complotti rettiliani non troppo però alieni sì tanta roba ci credo io sto bello l'altra notte l'altra sera adesso un sergente della marina eh che ha fatto l'avvistamento a parte che ci sta pure Obama l'ha detto no? avete visto? dice proprio ci stanno dei WAP delle cose in aria che non sappiamo che cosa sono a settembre vorremmo fare un podcast che parlasse solo di teorie complottistiche alieni chiamatemi allora adesso non dirò niente perché non ci sbilanciamo però non roviniamo non roviniamo la trovate a settembre sempre su questi canali devi trovarti però un cost sarebbe meglio ok c'è un cost? beh sì in sala forse già c'è già quindi eh facciamo Carlo e Carlo tutti e due com'è che lo vorremmo chiamare? chiamare non te lo ricordi? era una roba ah sì tipo ci sarà era un po' pacco come nome come era dai? tipo ci sarà un motivo ci sarà un motivo è una merda no scusate infatti non l'abbiamo fatto alla fine devi trovare una cosa trisciata tipo mistero queste cose noi due Adam Cadmon che ci racconta quello che noi non sappiamo legato al titolo Turbolense a me è venuto subito in mente e anche legato al viaggio la questione appunto di viaggiare in aereo tu come te la vivi? allora abbastanza bene io diciamo ho un po' di timore di ansia no timore di ansia dalla partenza e dall'atterraggio ok non so perché ma sei uno di quelli chiudo gli occhi poi si muoio sei uno di quelli che riconosce esatto gratta gratta io gratta sempre quando a pelle bro riconosci anche il cambio dei rumori del motore cioè sei molto attento anche no no cerco di essere proprio il meno attento possibile meno attento possibile io per due anni non ho preso un volo io per dieci anni o forse tre io ho preso il primo volo settimana scorsa e sia l'andata che il ritorno ho avuto la sensazione che il pilota non sapessero più atterrare tanto bene non è partito manco l'applauso tipo a merda pro contro applauso all'atterraggio pro contro indifferenza a parte che se chiudi gli occhi poi non ha indifferenza secondo me anche il fatto di un po' tipo scioccarsi del fatto che qualcuno applaude è ancora più da minchioni cioè nel senso chi cazzo credi essere ormai è fa di divertire sono ragazzi è glamour sono ragazzi hai detto minchioni io direi di iniziare col primo gioco della puntata di oggi che sono le domande minchione io lo voglio dire in questo modo in modo che poi nella clip comparirà anche una scritta in sovraimpressione tipo tv arrivo subito allora domande minchione ospite car brave allora questo è uno dei nostri format preferiti che adesso sto cercando le domande ma la prima domanda la so perché è sempre la stessa bide si fa spalle o faccia al muro questa l'avevo vista comunque chiaramente spalle al muro ok allora ti spalle al muro ti propongo la seconda la seconda opzione le rischielle non lo fanno faccia al muro però guarda che non era una domanda tricchi però non era una domanda tricchi era proprio per non è non è proprio così facile qualcuno di voi faccia al muro no però è successo tante volte che invece qualcuno lo dica ci sono tanti aspetti che non mi convincono del faccia al muro del tipo che per noi tu ti devi proprio ti devi proprio spogliare per farsi un bidemismo una roba che non ha senso c'è qualcuno che per fare i bisogni si denuda completamente esatto poi prende il lasso esatto e però poi il mondo si divide secondo me e l'altra volta non ho avuto il coraggio di fare questa divisione e con te invece ho preso coraggio buttiamo il cuore oltre l'ostacolo la mano tu la metti dietro o davanti beh dipende io non ho avuto coraggio lo dico io io la metto davanti mi sono preso tanti insulti perché dicono non è igienico esatto però io dietro va bene io dietro però sta roba della posizione comunque è molto variabile perché un amico nostro ha pure detto io mi metto di lato e ho detto come fai a metterti di lato se potessi cambiare il tuo cognome con un altro sostantivo cosa sceglieresti boh saprei ok io me la collo te la colli io sono molto così non saprei ti dirò oggi ho pensato lo vinerò il gioco oggi ho pensato Carlo Robusto però poi ho pensato che Robusto in realtà non è un sostantivo quindi ho detto faccio la solita figura di merda ma dirlo va bene di quello che non sta assolutamente e l'ultima siccome sei un grandissimo appassionato di basket e tuttora vai al campetto quando puoi quando ti capita ieri sono andato se potessimo sognare e tu puoi sfidare una persona anche a te sta un po' antipatica in uno contro uno proprio quei classici uno contro uno perché non sa giocare ma no questa domanda la facciamo con l'incontro di Pugilato ho detto se potessi organizzare uno scontro fisico chi lo organizzeresti perché basket non è un incontro di Pugilato te sei un fan della palacanestro quindi te la specchiamo sulla palacanestro con chi vorresti fare uno di quegli uno contro uno proprio quasi da carcere americano capito che giochi tutto a me da dal giocatore di basket mi piacerebbe farlo con uno forte ah ok quindi che ne so col Kobe Bryant mi piacerebbe Luca Raven ha detto che sfiderebbe a tennis Di Maio eh sì sì per riempirlo per riempirlo di fare le corte quindi Kobe sì sì Kobe a basket Kobe con la retina in metallo con le stitica incredibile sì ma proprio Rager Park eh con tutti che ti fanno il tifo che appena succede qualcosa mi massacra vabbè però vuoi mettere 300.0 anche batti il 5 al Lebron voglio dire io ho battuto il 5 a Kobe perché Kobe fece era giudice a un torneo qua a Milano tra l'altro davanti al castello Sforzesco tipo e ho giocato questo torneo a battuto il 5 a Kobe e non ti sei più lavato la mano per due settimane esatto no da davanti fino a che non ti sei fatto il video stavo per dire fino a che non ti sei fatto il video ma guardi pure tipo in B.A.F.I.A. hai visto certo cazzo ha vinto Denver per chi facevi il tifo per Denver per Denver cioè in realtà all'inizio per i Lakers per Lebron ah io pure però poi Jimmy Butler mi piace la cosa no invece no io ho sui Jokic mi piace ho sui Jokic è troppo forte ma ha bisogno doveva vincere un titolo Murray che se l'ha fatto male se l'ha distrutto che ho già chiesto se veniva tradato gli ho detto no bro Murray ha fatto tutto un tweet e lo leggevo un secondo prima che tu arrivassi che Harry mi sa oh vieni arrivato ha chiesto di essere tradato giura seconda cosa che dopo Megaclick vediamo anche la trade ma pazzo scusa adesso devi partire devi iniziare gli anni del dominio di Denver di Denver che era quotato che avrebbe vinto c'era Aaron Gordon che ha fatto festa senza maglietta per strada sì esatto droghe alcol un po' tipo già grillish le funghette allucinogeni che sono pazzeschi no no che si può fare proprio a Denver sì sì si può fare assurda sono legali così mi hanno detto così mi hanno detto quando me li presi quando mi hanno dato solo per strada a Denver così mi hanno detto che era che era altra teoria del complotto su Jimmy Butler che è il figlio di Michael Jordan ma è vero che era un cazzata però mi piace a me piace pensare esatto esatto pure voi che giocate a basket volete giocare no io sono fan del Milan sfegatatissimo tifoso calcistico però guardo le final e guardo ciao regà ma questa suggestione è tipo quella che Montezemolo è figlio di Agnelli un po' quella roba lì ma poi tu non hai idea di quante informazioni a sostegno di questa tesi ci stanno incroci le date solo dell'incrocio delle facce se ti mettono le facce da una davanti all'altra la stessa forma esatto perché Jimmy Butler è stato adottato esatto poi la madre ha smesso di prendersene cura in un momento in cui insomma tutte queste cose qua nel podcast sui complotti affrontaremo anche però no io sono un grandissimo sostenitore di Lebron e quindi ogni squadra in cui va Lebron io tipo quella squadra quindi nel 2006 ero fan dei Cleveland sfigatatissimo poi è diventato Lakers Lebron è fighissimo e io spero che il figlio è andato al college adesso ma l'NBA ha cambiato le regole dell'NBA appunto poi è andato al college alla fine però affinché si potesse riandare dal liceale a direttamente l'NBA esatto chi deve aspettare un altro po' di tempo no ormai è andato al college il figlio Bronny e quindi niente giocherà al college però Lebron ha detto che vorrebbe giocare col figlio quindi magari il prossimo anno prima di smettere non questo il prossimo anno ancora Lebron al college comunque ora c'è Wembaniyama che è il giocatore più forte lo stavamo guardando prima 2 metri e 25 quella sberla gigante di persone una roba anche dicono più forte sarà la nuova stella della NBA proprio la nuova faccia dell'NBA dicono proprio è allucinante ed è effettivamente è allucinante che si muove come un piccolo non l'ho visto guardatelo secondo me è uno di quei video che su facebook quando lo aprivo ti usciva tanto lui che schiacciava al college in testa a tutti non al college in Francia è francese è uno secco secco altissimo quindi può fare tipo sto Luca Doncic dall'Europa dall'Europa vai in America spaccato tutti questo è un crodi più la promessa più grande di tutti gli sport dicono assurdo dicono proprio l'assurdità dopo ci spariamo un po' di video Kyrie Irving comunque è tipo un completissimo per la piattista come il chitarrista di Blink altra mia band della vita non belong lui proprio dei alieni lui ha pure investito un po' di soldi lui ci ha parlato pare che l'ultimo disco che esce di Blink sia stato scritto su Marte sì esatto l'ho detto adesso in realtà però se diventa una notizia sono contento che parti da questo tavolo io ci credo io pure ci credo tutta la vita ma torniamo alla musica ma torniamo alla musica abbiamo per caso divagato perché scusa continuiamo per basket come gli alieni non abbiamo divagato assolutamente no assolutamente però cioè mi diverto ogni tanto parlare di giusto la mia vita la tua vita di complottismo un po' puro spicciolo e volevo parlare di un'altra vita e fare anche una domanda un po' da nerd di viaggio che mi sono fatto oggi in treno se fosse collegato al pezzo vita invece di notti brave è un pezzo bellissimo tra l'altro no no quello è un pezzo più d'amore questo è un pezzo diciamo un po' più crudo no si racconta un momento un po' greve che tutti passiamo spesso no quando siamo pure succedono queste tragedie al liceo così quindi no vita è una roba molto d'amore molto d'amore no appunto legandomi sempre a questa questa canzone è cioè molto molto deep parla di parla di un appunto di un lutto e c'è la necessità di parlare di è un fatto che è successo nel recente senza farmi i cazzi tuoi oppure è una cosa che è del tuo passato e che hai avuto bisogno di raccontarla ora dico per dire in realtà guarda questa è un po' romanzato perché la pischella comunque ho avuto degli amici a cui è successo ai tempi e no questa è romanzata diciamo mi è riuscita un attimo questa cosa questo bisogno di scrivere mi è uscita così quando è successa quella roba a Ponte Milvio delle due ragazze e è riuscita insomma ho voluto raccontare un momento che quasi tutti viviamo che tutti viviamo prima o poi comunque che è un po' non dico un tabù però non se ne parla spesso nelle canzoni e insomma volevo raccontare pure quella cosa nella sua reale nella sua crudità esatto complessità nella sua complessità è una cosa che succede è una cosa che magari uno ci si rivede magari non ti è successo ti puoi preparare sai che succede questo questo e quest'altro insomma e raccontare una cosa vera reale allora io volevo parlare di paura perché anche tu ci raccontavi prima hai fatto le hit stive adesso c'è un nuovo disco alle spalle c'hai altri due tre dischi anzi insomma c'è qualcosa che ti spaventa oggi come artista la paura del fallimento la paura che qualcosa non vada bene la paura di non rispettare te stesso e quindi finire facendo anche così tanti pezzi come ci hai raccontato prima i suoli fans insomma un po' se c'è qualcosa che che ti fa paura che ti porti dentro nonostante tutto questo percorso lungo che stai affrontando nella musica certo diciamo più che paura è magari ansia no le ansie che magari la cosa non va più nessuno te sente più oppure fai una cosa che non ti piace a te e non piace agli altri insomma ci stanno sempre ci convivi costantemente con queste cose vita ma è più diciamo difficile convivere con una cosa che funziona ma te non piace o appunto con qualcosa che a te convince che però magari ha insomma ha un riscontro diverso partiamo dal presupposto che io non faccio cose che non mi piacciono ok quindi magari pure dici fai una cosa più aperta una hit io comunque l'ho voluta fare l'ho voluta fare con lo stile mio sì perché poi comunque e per me anche è un obiettivo un compito quella è una roba difficile parlando insomma della hit che stia del tormentone non è facile anche perché poi tu hai insomma ci siamo abituati a questo tuo linguaggio a questo tuo immaginario a tua estetica ma è tu cioè è tua quella roba lì certo esatto cioè non faccio la calcinculata proprio no da circo cerco di rimanere comunque nel mio e di fare una cosa più aperta magari con un ritornello più facile però diciamo che comunque avete tu e Franco avete segnato completamente un periodo storico e quindi noi dopo cioè dopo dopo Polaroid ci siamo abituati a sentire quella roba perché l'hanno rifatta in altri tantissimi quindi sembra che sia facile ormai fare quella roba certo però diciamo chi ha chi ha perché come tutti il genere tutti quando esci con qualcosa di nuovo bla 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 diciamo ci stanno delle degli elementi che compongono il quadro quindi degli elementi da seguire Polaroid se tu lo studi lo puoi rifare capito come puoi rifare la drill come puoi rifare certo ha dei canoni chiunque chiunque ha dei canoni e infatti proprio per questo che l'intelligenza artificiale rifà magari paro paro Drake perché perché quello dice quel tipo di cose ha l'immaginario quelle frequenze quelle basi basta studiare un attimo chi senti e si può rifare poi ovviamente se sei il primo a fare una cosa allora vinci tu sei l'apripista e quindi campi pure dopo degli altri che fanno sta cosa certo capito invece se stai a seguire basta copi sei un bravo copione diciamo c'è quel momento di moda e poi ciao ciccio legato a questo discorso come è in questo momento la scena romana dal tuo punto di vista che insomma hai anche dieci anni insomma di in cui in cui la pazzi adesso proprio la scena in generale è molto rap diciamo da quel punto di vista il rap c'è il pop è un po' anche apertone la virgoletta che sta andando ma c'è qualcosa diciamo che deve sbocciare a Roma che senti che c'è fermento per un nuovo generale mi sembra quasi eccessivo però insomma una nuova wave magari comunque una nuova tendenza un nuovo suono guarda non saprei vediamo però adesso secondo me il rap è la cosa che va di più in base diciamo l'indy quella roba là è molto scemata adesso secondo me avrà un altro picco quando uscirà a Calcutta potrebbe avere quindi tra pochissimo a brevissimo il sette diciamo sta trollata capito io so io lo so cose che voi non sapete no quindi secondo me la potrebbe e poi sicuramente c'è sempre quella ricerca ma viene anche da me di cercare qualcosa di nuovo certo nuovo gene tra virgolette è un po' il mischiare i generi e capire dove andare prendere quello che ti piace però dipende pure dal momento dalla fortuna in quel momento la gente è pronta o magari fai una cosa che all'avanguardia la gente non è pronta e andrebbe fra un anno la dove aspetta un anno certo insomma ci sono troppe variabili a livello di sonorità che ti piacevano e che ti piacciono migrazione da cosa è stato ispirato e influenzato da un botto di cose diciamo oltre che chiaramente ai viaggi alle culture diverse eccetera beh io mi sparo io ormai mi sparo veramente tutto in questo momento mi sto sparando Fred again ah beh a grande per esempio tanta pure elettronica ehm Skrillex cazzo ne so che sta tornando un botto adesso Fred again ha fatto proprio Fred again Skrillex e Fortette e Fortette stanno facendo queste cose insieme che sono sgravate cioè tra l'altro ci sta un disco molto figo di Brianino e Fred again Fred again era l'assistente storia assurda Fred again era il vicino di casa di Brianino tipo il nipote ma poi c'è una storia assurda tipo ultra nobile e ha fatto era vicino di casa di Brianino e poi tipo la sua carriera nella musica è iniziata facendogli l'assistente tipo non so gli attaccava i cavi probabilmente sì lui l'ha cresciuto Brianino ha insegnato a Fred again è arrivato a diventare il più forte in questo momento il più forte di tutti di quel genere quella roba là elettronica è il più forte di tutti assolutamente cioè la novità è il più forte di tutti perché non è non c'è è più forte non è così però diciamo è la novità in questo momento è la novità anche un po' il conduttore perché a me per esempio di musica elettronica non mi è mai troppo interessato è scoppiato Fred again e è stato un po' un conduttore che secondo me a chi non ha mai toccato quei generi lì ha detto ok fammi andare un po' a sentire ha avuto un po' questa funzione di vettore verso questo genere per quanto riguarda la copertina del disco volevo chiederti un po' la scelta appunto dell'artwork che riprende chiaramente uno stormo più o meno però con un uccello un pochino più grosso dietro sono volevo sapere un po' come è nata e se per te è una cosa in cui anche lì ti ci metti oppure se deleghi un po' no guarda quello in realtà è un mio disegno di quando avevo quattro anni e niente quello è un disegno che ricorre da anni a casa dei miei da sempre l'ho voluto usare lo volevo usare diciamo davanti c'è questo stormo di gabbiani credo siano gabbiani e dietro c'è questi sorci mi piaceva perché uno sono due animali che a Roma che a Roma è piena è piena se magnano il gabbiano se mangia il topo e poi niente mi piaceva perché era concettualmente vicino a questa idea di migrazione poi mi piacciono perché uno sta volando da solo verso l'altro gli altri stanno impecchiata cascando giù uno sta fermo là per terra un po' in equilibrio ci vedo un po' il ciclo della vita queste cose mi piace vederlo in questa maniera quindi era pronta sta roba comunque si si era pronta con migrazione ho detto cazzo usiamo sta cosa perfetta così non paghiamo risparghiamo sul grafico e ci andiamo a Lisbona facciamo l'ultima volta che allora qua invece inauguriamo un format oggi famo di tutto quindi l'ultima volta che io ti dico una serie di cose e tu mi dici mi racconti l'ultima volta che succede per esempio l'ultima volta che ti sei perso i tuoi occhiali da sole sempre tipo ieri l'altro ieri più che altro li rompo mi ci siedo sopra capito questo c'ho questo problema l'ultima volta mi regalano quindi dai anzi anzi scusate voi che mi regalate l'ultima volta che hai bevuto troppo quando è uscito il disco mio beh basta giustamente per festeggiare l'ultima volta che hai detto se hai detto che palle la tecno ancora la tecno a una serata beh sì alle serate diciamo non mi diverto più tanto alle serate tecno per quanto amo la tecno questo è un bellissimo argomento perché la tecno è diventata fashion è successa questa cosa con Ricci Oting è diventato direttore diciamo artistico della parte musica di Prada ah non lo sapevo cioè sta roba cioè ormai la tecno è quella roba che insomma che una volta forse a ballare le sfilate era underground sì era underground che magari ai parti fashion c'era adesso non ho un'idea però magari c'era Bob Sinclair adesso invece è tutto comunque estetica lì beh c'è tecno è tecno comunque comunque sì diciamo che non ritrovo nelle serate in cui vado non ritrovo non mi diverto più diciamo è vero che magari se vai a un festival vai magari là ti diverti vai a vedere Fred again è lì non è proprio l'ultima volta che hai lanciato una macumba a qualcun altro e beh sì a qualcun altro non sono troppo mi faccio abbastanza gli affari miei più tipo agli stati tipo a un governo al governo al governo di Bangladesh l'ultima volta che hai preferito la CBD mai mai esatto questa è la risposta che volevo è l'ultima l'ultima volta che ti hanno chiesto quando fai uscire un disco un altro disco con Franco prima in treno sempre prima in treno ok questo insomma era l'ultima l'ultima volta e comunque di featuring romani all'interno del disco ce ne sono due cioè Dylan giusto Knight Knight allora tre tre e poi Pretti e Mara che è De Fiumicino che è De Fiumicino e quindi non la consideriamo romana è vero è vero non è romana è De Fiumicino è De Fiumicino rispetto a De Fiumicino assolutamente e anche ho ritrovato un Pretti sempre un po' con quella cosa come ho avuto la stessa sensazione sia con Jake che con Clementino un po' di Busteneyke non so perché c'è avuto anche lì un po' questa questa sensazione è un complimento che Busteneyke è la sua hit in assoluto aspetta che non mi funziona più la cosa sì ok no con Pretti diciamo siamo molto amici e abbiamo avuto tutto un grande periodo insieme in studio in cui tra l'altro abbiamo lavorato un disco suvo con produzioni mie ed è uscito anche questo pezzo che è molto di piazza molto intimo sì sì un po' cioè che raccoglie anche la strada un po' con la vibe esatto e lui è uno molto poetico in questo nell'intimità in queste cose poi può fare anche cose magari più sparone e tutto però lui è una persona molto sensibile e poetica ok io ho una delle ultime domande che avevo era quello che auguri nel futuro a questo disco cioè una cosa che ti auguri che anche chi lo ascolta percepisca di quello che volevi dire di quello che volevi far sentire di quello che volevi comunicare una sorta di augurio che fai a quest'ultimo disco beh mi auguro che arrivi alla gente che capisca pure che capisca magari come avete capito pure voi cioè che è una roba anche bella intima che rispecchia anche il me il vecchio me insomma e gli auguro di durare no? in questo momento i dischi durano molto poco invece gli auguro che faccio un bel viaggio è anche un disco secondo me che va sentito più volte assolutamente in questo momento molti dischi li senti una volta poi invece questo è un disco che va sentito bene per capirlo si cioè con le cuffiette in giro io direi che possiamo andare a parlare di alieni di sotto andiamo a parlare di alieni di sotto ti ringraziamo molto ho visto che hai un tour bello serrato quindi gli allenamenti so per quello infatti esatto ma tu ci scherzi ma è così io feci un tour a teatro che stavo con la pancia greve e proprio stavo con il filadone e invece training basta training noi ci beviamo le birre faccio l'apriolo esatto ma pure io poi mi bevo le birre il vinello cose faccio la serata però diciamo se ci vai preparato è meglio preparati a fare schifo come dovrebbe essere detto in tutte in quello sono abbastanza bravi siamo forti siamo forti carglastimile stamme forte stamme forte io spero che sia questo no no cazzo ci hanno cambiato perché una volta questo una volta era era ecco togliamo no fuck ci hanno cambiato il pad perché avevamo quello complottista e volevo finire così mi piaceva la musica chi è stata a capire il pad noi non lo sappiamo a proposta di complotto voi lo sapete cari grazie mille ciao ragazzi grazie mille ancora grazie a voi